Ed eccoci giunti ad uno dei classici canonici appuntamenti mensili del mio canale con quelli che sono i video di consigli ed oggi, tra l'altro credo anche leggermente in anticipo rispetto alla media perché comunque ho la necessità di pubblicare questo video un po' prima oggi voglio infatti parlarvi di quelle che sono le prossime uscite al cinema, quindi in sala qui in Italia, durante il mese di aprile però prima di iniziare io vi ricordo come sempre quello che potete fare per poter sostenere il mio canale innanzitutto iscrivetevi se non siete ancora iscritti perché mi aiuterete a farlo crescere ancora di più poi una volta iscritti ricordatevi anche di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti e poi se il video vi sarà piaciuto lasciate un like il che sicuramente non guasta quindi vi ringrazio davvero se farete tutto questo ma passiamo appunto a quello che è l'argomento del video di oggi oggi voglio andare ad esplorare insieme a voi quelle che secondo me sono le 7 uscite più interessanti per quanto riguarda i film che arriveranno in sala qui in Italia ovviamente durante il mese di aprile come sempre faccio sono dei consigli sparsi ovviamente non andrò in ordine di importanza non sarà una classifica anche perché sono dei film inediti quindi sono delle pellicole che ancora io non ho visto, non abbiamo visto quindi andrò a delencarvi queste 7 pellicole che secondo me sono meritevoli di attenzione chiaramente per motivi diversi perché saranno altrettanto diversi i film e i titoli che vi andrò a delencare però tra questi film sicuramente qualcuno potrebbe anche interessarvi quindi vi andrò a dare questa lista, questi 7 film, questi 7 titoli che andranno ad uscire durante il mese di aprile proprio nelle nostre sale allora innanzitutto io voglio partire da un film che sicuramente avete visto pubblicizzato un po' dovunque soprattutto anche in giro per il web e cioè Super Mario Bros il film un film che uscirà nelle nostre sale a partire dal 5 di aprile è un film che attendo con molta curiosità perché io sono un grandissimo amante dei videogiochi di Super Mario non sono più un grandissimo giocatore particolarmente costante ma è una figura, quella di Super Mario, che mi ha accompagnato praticamente da sempre io sono cresciuto con Super Mario, con quelli che sono stati i giochi del Nintendo l'ho poi seguito anche negli anni successivi ripeto, l'ho un po' abbandonato da quando fondamentalmente sono andato oltre la Nintendo 64 ma è sempre una figura di riferimento nella mia mente, nel mio cuore è probabilmente uno dei miei personaggi preferiti forse il personaggio preferito nel mondo dei videogiochi quindi sono curioso di capire che cosa saranno stati in grado di fare con questo film d'animazione tra l'altro Super Mario Bros, ricordiamolo, nel mondo del cinema non è neanche una figura nuova, anche se negli anni 90 ricorderete probabilmente quel film a dir poco trash che venne realizzato con Boboskins nei panni proprio di Super Mario ma che poi di Super Mario non aveva praticamente nulla quindi bisogna sempre andarci con i piedi di piombo con Super Mario nel mondo del cinema però questo film sembrerebbe essere interessante per quanto possa essere interessante chiaramente un film su Super Mario bisogna sempre contestualizzare un minimo la tipologia di film in questione quindi a partire dal 5 di aprile Super Mario Bros, il film, arriverà nelle nostre sale e non vi nascondo che è una delle, non dico delle mie priorità però per quanto riguarda il mese che sta per arrivare uno dei film che spero di andare a vedere in sala e passiamo poi ad un film italiano che arriverà qui in Italia e che quindi sbarcherà nelle nostre sale a partire dal 20 di aprile ed è il nuovo film di Nanni Moretti ed è il Sol dell'Avvenire ora, come vedete io spero sempre di poter fare decenni di trama anche se per Super Mario Bros credo che la trama sia tutto fuorché importante anche perché voglio scoprirlo da solo e non ho approfondito più di tanto per questo film invece, per Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti non si hanno notizie sulla trama ho cercato di spulciare un po' in giro per quanto riguarda i siti web, chiaramente a tema cinema non sono riuscito a trovare delle informazioni è un film che viene etichettato come una commedia e un dramma quindi anche qui non so che cosa aspettarmi ma siccome è un film di Nanni Moretti io i film di Nanni Moretti li aspetto sempre con una certa curiosità poi non sempre sono in grado di soddisfarmi totalmente però è un film secondo me da mettere in lista per poterlo recuperare nel momento in cui arriverà nelle sale arriverà nella parte finale di aprile quindi a partire dal 20 di aprile quindi nuovo film di Nanni Moretti in vista Il Sol dell'Avvenire 20 di aprile e passiamo poi ad un altro film italiano scusate la voce tende un po' ad andare via un altro film italiano di e con Rocco Papaleo tra l'altro con la presenza anche di Giorgia la cantante ovviamente tra i protagonisti ed è il film Scordato un film che a quanto ho letto racconta la storia di un uomo un accordatore di pianoforte che è costretto a fare i conti con intensi dolori alla schiena e la sua vita diciamo che cambia nel momento in cui incontra una fisioterapista ovviamente questo accordatore è interpretato da Rocco Papaleo la fisioterapista interpretata da Giorgia la quale fisioterapista in qualche modo trova una spiegazione anche emotiva viene detto anche nella trama del film a questi dolori tanto che infatti chiede di poter avere una foto da giovane di questo accordatore di quest'uomo per cercare di intraprendere un percorso di riabilitazione molto particolare non ho voluto approfondire più di tanto chiaramente per non spoilerarmi il film Rocco Papaleo a me piace come artista chiaramente è come dire soprattutto conosciuto per il suo essere un attore comico comunque da commedia ma è uno di quei classici attori che secondo me sono sempre in grado di dire la propria soprattutto in ambito non comico quindi staremo a vedere che cosa sarà in grado di offrirmi questo film e cosa sarà in grado di offrirci questo film chissà che non si nasconda dietro il titolo scortato un piccolo gioiellino staremo a vedere mi incuriosisce parecchio a partire tra l'altro dal 13 di aprile quindi siamo a metà mese il nuovo film di e con Rocco Papaleo con la presenza appunto anche di Giorgia quindi il film scordato e siamo quindi arrivati al terzo consiglio di questa lista appunto delle uscite per quanto riguarda i film che arriveranno in sala durante il mese di aprile passiamo poi ad un film che anche qui è stato pubblicizzato nel corso delle scorse settimane nel corso degli scorsi mesi soprattutto perché è stato girato in Italia ed è L'esorcista del Papa un film con Russell Crowe protagonista principale uscirà nelle nostre sale anche questo a partire dal 13 di aprile e racconta quelle che sono state una buona parte delle vicende legate a Padre Amort uno dei più importanti esorcisti della storia tra l'altro si racconta che abbia come dire portato avanti circa 10.000 esorcismi e in questo film a quanto pare si racconta la storia di uno di questi soprattutto anche legato a tutta una serie di scoperte per quanto riguarda dei segreti legati al Vaticano che infatti in qualche modo emersero dall'attività di questo esorcista esorcista come detto interpretato da Russell Crowe tanto che infatti nel corso degli scorsi mesi si sono viste diverse diverse foto diverse immagini video di Russell Crowe proprio in Italia per girare questo film ora non è sicuramente tra le mie priorità non rientra tra i film che attendo maggiormente per quanto riguarda le prossime settimane però potrebbe essere anche questo interessante viene descritto come un horror potrebbe essere anche una sorta di giallo a cavallo tra il giallo e l'horror staremo a vedere è un film che se dovesse capitarmi di guardarlo sicuramente lo guarderò con piacere però ripeto non è una delle mie priorità però potrebbe interessare voi quindi voglio per questo motivo inserirlo in questa lista quindi quarto consiglio di questo elenco l'esorcista del Papa a partire dal 13 di aprile nelle nostre sale e passiamo poi ad un altro film che tra l'altro esce anche in questo caso il 13 di aprile quindi il giorno di questo giorno è particolarmente ricco di nuove uscite in Italia ed è november i cinque giorni dopo il Bataclan un film che chiaramente può essere considerato biografico nel senso che racconta una storia realmente accaduta la tragedia del Bataclan una come dire una tragedia terroristica quindi un attacco terroristico che avvenne ormai circa sei anni fa se non ricordo male ed è un film che va infatti a raccontare quelli che sono stati i giorni immediatamente successivi a questo attentato terroristico con la ricerca chiaramente dei colpevoli dei terroristi appunto è un film interpretato tra gli altri da Jean Dujardin quindi un attore francese che tra l'altro io apprezzo particolarmente staremo a vedere io come sapete ho una certa predilezione per quelli che sono i film biografici per quelli che sono i film che raccontano storie realmente accadute e tra l'altro questa affermazione risulta essere particolarmente importante per quello che è il film che vi sto per elencare dopo ma in realtà anche l'esorcista del Papa può essere considerato fondamentalmente un film biografico perché racconta la storia di un vero esorcista realmente esistito per quanto riguarda november i cinque giorni dopo il Bataclan quindi è una pellicola che potrebbe essere interessante anche per andare in qualche modo a riscoprire mettiamola così una delle più importanti tragedie purtroppo una delle più importanti tragedie diciamo dei tempi recenti è quella del Bataclan chiaramente nell'ambito del terrorismo quindi november i cinque giorni dopo il Bataclan a partire dal 13 di aprile nelle nostre sale per quanto riguarda i film biografici infatti vi sto per dire appunto quello che è il film che forse attendo con maggiore curiosità tra tutti quelli che vi ho appena elencato perché perché sto parlando di Air la storia del grande salto un film che esce nelle nostre sale a partire dal 6 di aprile film che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Ben Affleck che comunque è anche presente tra i protagonisti insieme tra gli altri a Mad Demon quindi si ricrea sullo schermo una delle coppie più come dire famose ma anche una delle coppie più affiatate più solide del mondo di Hollywood due attori che sono tra l'altro anche grandissimi amici un film questo che racconta la storia di quella che è stata fondamentalmente la collaborazione che si è instaurata se non ricordo male alla fine degli anni 80 tra la Nike e Michael Jordan che era ancora comunque un atleta non ai livelli che avremmo poi conosciuto successivamente quindi una storia di collaborazione sportivo chiaramente anche commerciale mi viene da dire con un marchio famosissimo chiaramente quello della Nike insieme ad uno dei più grandi atleti che la storia dello sport in generale abbia mai conosciuto sicuramente uno dei più grandi giocatori di palla a canestro appunto Michael Jordan un film che mi incuriosisce tantissimo questo sì è un film che mi stuzzica proprio per il fatto di essere un film biografico per raccontare una storia realmente esistita probabilmente anche romanzata ma come sempre dico i film biografici non sono dei documentari quindi va benissimo così il trailer mi ha fomentato devo dirlo perché l'ho visto più di una volta soprattutto prima della proiezione dei film in sala quindi l'ho visto anche con l'ausilio del grande schermo non vedo l'ora di andarlo a vedere ve lo posso dire quindi a partire dal 6 di aprile Air la storia del grande salto appunto con Meddemon e Ben Affleck Ben Affleck anche regista ed infine chiudiamo davvero in bellezza tra virgolette ma il film che vi sto per citare davvero è una pellicola che mi incuriosisce fin da quando ne ho sentito parlare purtroppo sta arrivando con notevole ritardo qui in Italia rispetto anche a quella che è stata la distribuzione all'estero e sto parlando di Cocaine Orso un film che arriva in Italia a partire dal 20 di aprile anche questa è una storia vera tra l'altro perché racconta la storia vera di un orso che in qualche modo impazzì a dir poco dopo aver assunto in maniera chiaramente involontaria della cocaina ora io non ho voluto approfondire più di tanto su questo film per quanto sia già stato distribuito all'estero se ne è già parlato c'è chi già l'ha visto io ho voluto in qualche modo isolarmi da tutte le voci riguardanti questa pellicola perché se ci riesco voglio andarla a vedere in sala perché potrebbe essere uno dei film più folli mai usciti negli ultimi tempi tra l'altro tra l'altro a quanto ho capito c'è l'intenzione di creare una sorta di universo non so come definirlo su questi animali come dire dopo l'assunzione di particolari droghe quindi staremo a vedere che cosa si verrà a creare nei prossimi anni ma questo in realtà ripeto è un film che potrebbe essere etichettato come un film biografico perché a quanto pare fa riferimento a delle vicende realmente esistite ripeto non so cosa aspettarmi mi incuriosisce a palla spero di andarla a vedere credo che si possa essere in quelle classiche situazioni in cui ci si troverà di fronte o ad un film estremamente divertente estremamente come dire cacciarone tale da poterlo comunque considerare non dico un capolavoro ma comunque un piccolo cult mettiamola così oppure ci troveremo di fronte al trash del trash del trash quindi non so che cosa aspettarmi non ho idea che cosa di cosa saprà offrirmi questo film però volevo inserirlo in questa puntata per quanto riguarda dei consigli di aprile quindi cocainorso a partire dal 20 di aprile nelle nostre sale e chiudiamo probabilmente in bellezza questa lista questo elenco di film che appunto usciranno nelle nostre sale a partire dal mese di aprile fatemi sapere le vostre opinioni fatemi sapere se tra questi film ce ne sono alcuni che attendete con maggiore curiosità se ci sono altri titoli tra quelli che usciranno ad aprile che io non ho inserito in questa lista fatemeli sapere chiaramente tra i commenti quindi esprimete la vostra opinione qui sotto perché come sempre vi leggerò con molto piacere e vi risponderò chiaramente altrettanto gradevolmente io vi ringrazio come sempre per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo iscrivetevi al canale per aiutarmi a farlo crescere sempre di più lasciate un like se il video vi sarà piaciuto ma anche se il video non vi sarà piaciuto e poi ricordate anche di attivare la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti poi in descrizione qui sotto trovate altri modi per supportarmi innanzitutto con la funzione super grazie potete lasciare un commento in evidenza con una piccola donazione al canale poi c'è la mia wishliste amazon se volete farmi un regalo un link amazon da utilizzare per fare qualunque vostro acquisto su amazon perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da amazon al sottoscritto e poi ci sono tutti i miei canali social nei quali potermi eventualmente seguire da telegram twitter instagram così come anche la mia pagina facebook dr cinema noi ci becchiamo in un prossimo video in una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale nei prossimi giorni anche se credo dovremmo aspettare il mese di aprile arriveranno anche i classici video di consigli per quanto riguarda le uscite su netflix le uscite anche su prime video spero di poter realizzare anche quello che è il video relativo alle uscite in non video ma durante il mese di marzo come sempre io faccio il video delle uscite in non video per il mese che si sta concludendo o si è appena concluso in modo tale da permettervi eventualmente di acquistare i film che andrò ad elencarvi ma comunque ci andremo aggiornando io come sempre vi auguro anche una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti